La Beckham, siamo con Giorgio Cusin. Ecco, questa mattina sentivo discussioni anche concitate. Di cosa avete parlato? Quali sono i temi principali della mattinata? Ma si è spaziato molto sicuramente, tutti i temi estremamente importanti. E secondo me tutti questi argomenti possono aiutare a ragionare e a pensare diversamente rispetto a quello che stiamo facendo. Quindi cercare di andare veramente verso lo star bene, verso l'essere felici, che secondo me sono i due frutti principali. Se non sono di salute, non sono felice, nella vita manca parecchio. Ecco, invece qua a Ravenna parliamo anche del tuo libro, uno dei motivi per cui sei qua, è proprio questo. Ecco, vuoi parlarci di questa esperienza che hai fatto? Sì, ho un precedente fatto con un collega, amico, però era più tecnico relativo a un altro argomento. Questo invece è un insieme di riflessioni mie, però abbinate anche a molti argomenti tecnici. Quindi si parla, è una raccolta di aspetti dell'acqua, quindi si parla di idroterapia, il delfino, la musica classica, la numerologia, l'astronomia. Si spazia molto. Ci sono mie riflessioni, ci sono appunto parti tecniche. Ogni capitolo inizia con un proverbio, finisce con un aforisma. Ci sono poesie, canzoni, c'è un po' di tutto. Lo scopo era quello di divertirmi e ci sono riuscito perché mi sono divertito a fare questa cosa, mi ha dato molto. Ho imparato tante cose io e lo scopo fondamentale era quello di raccogliere dei fondi inizialmente per i pozzi in Africa. Poi non sono riuscito a trovare una soluzione in questo senso. Ho trovato invece questa che sono per comprare delle pompe meccaniche per prelevare l'acqua da sottosuolo in cinque villaggi nel Nepal. E al momento, da Natale a oggi, siamo arrivati a 28 pompe acquistate. Complimenti. Beh, complimenti anche alle persone che hanno creduto in questo progetto e continuano a crederci. Vogliamo ricordare il titolo, l'editore, i riferimenti anche eventualmente per acquistarle, insomma anche online, non lo so. Certo, il titolo è Acqua, fiume di vita, edito da Antares, appunto l'ho scritto io, Cusin Giorgio. Si può trovare sul sito www.antares.it mi pare, ma in questo momento mi spiego. Siamo su Google. Sì, è più facile. Niente, si trova abbastanza facilmente chiedendole le varie librerie, quindi non ci sono grossi problemi. Diciamo che io cerco di venderne il più possibile direttamente perché così riusciamo a comprare più in fretta le pompe per il Nepal. E quindi questo, insomma, per me è un obiettivo estremamente importante. Mi sta dando veramente molta felicità e mi fa stare bene. Quindi i due obiettivi di cui parlavamo prima. Grazie a Giorgio Cusin. Grazie a voi. Grazie a tutti.